ok giro terminato per oggi diamo il riepilogo 5 ore 42 143 km 25 di media massima 56 media 110 watt massima 511 intensità molto basso 05 162 training stress core 1.88 metri di livello ci siamo poi vedrò tutto quanto parecchi giorni di recupero però direi che devo dire che se proprio adesso non mi viene un infarto questa non ci come al solito straordinaria perché per quanto sia abbastanza spostato nella parte alta del corpo sono veramente rilassato cioè avrebbe dato ancora a lungo se non avessi un po di avete presente certo un po di fiato corto ecco un po di fiato corto perché poi comunque uno si stanca non ho spinto molto sono andato tranquillo volevo fare proprio un lungo 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 giusto per testare un po la tenuta sulla lunga distanza anche perché l'idea è quella di fare il mondiale e c'è ci sono parecchie prove tra cui anche una tre ore quindi devo allenarmi parecchio anche sul per la resistenza mentre in austria la gara era sui 100 km per un totale di circa due ore qualcosa un'ora in più non è poco volevo semplicemente sottolineare la comodità della della seggiola perché stare sei ore perché stato sei ore quasi sette ore in bici per quanto uno sia allenato però non c'è confronto con la bici da corsa è un peccato come al solito valgono tutti tutte le questioni che racconto anche sull'impianto fotovoltaico e non si può non si può non si può ma sono scuse ecco diciamo che qui la scusa è nei confronti dei produttori che non credono in bici simili dico questa ma simile a questo perché non si capisce non si capisce è un po come la questione della macchina elettrica non è adatta a tutti ma è adatta anzi veramente questa sarebbe anche adatta a tutti solo quelli che hanno però difficoltà a tenere l'equilibrio ma ci sono anche altre versioni però se la macchina elettrica con la macchina elettrica ci vuole il borghi non so perché sono ho proprio problemi con queste questioni che la massa non so di persone sembra non capire e sono proprio un bastian contrario alla fine però non sono non credo di essere il bastian contrario che agisce semplicemente dicendo no io penso di essere uno di quelli non sono in tanti a provare e sperimentare a proporre e poi qualcuno ci crede qualcuno le usa c'è qualche amico che poi alla fine ha usato biciclette simili e queste o altre secondo me in tanti si trovano bene è un po come la questione della macchina elettrica è un po come la questione del fotovoltaico alla fine uno ci prova e all'interno di un certo recinto di un certo confine una certa area ci sono grandi vantaggi è un peccato e come al solito faccio la predica e non ci sia tutta questa voglia di sperimentare di fare e andare oltre al luogo comune però se la questione è che nel fotovoltaico alla fine è abbastanza relativamente facile provarci anche nel fai da te con questa qua difficile in effetti quindi capisco anche quelli che dicono magari io vorrei provare ma non c'è la possibilità boh non c'è qualche produttore un po illuminato che in passato c'è stato qualcuno ma nessuno ci ha veramente mai provato ma sono mezzi come questi con cui bisogna provare perché sono mezzi che sono simili a una bici da corsa sia come peso come come prestazioni sono superiori ma non non capirò mai proprio impossibile capire impossibile però è la mia malattia probabilmente quello di credere in cose che poi alla fine funziona perché più che dimostrare che fa tutto quello che deve però c'è sempre questo scoglio mentale vabbè comunque è stato veramente bello bellissimo e adesso mi allenerò prossimi video saranno sulla anzi vi faccio vedere a che punto siamo in cantina il telaio è praticamente concluso non guardate il disordine come in tutte queste officine quando non quando si ha voglia della sostanza si bada proprio all'ordine però vabbè comunque pulito il pavimento anche per la gioia dell'elisa pulito non si vede però ho tirato dietro la resina adesso è solo da passare con la una bella scicco patina ed è fatta cosa ho fatto adesso vedete il nastro adesivo ho usato la classica tecnica col nastro americano qui ho rinforzato qui ho utilizzato la vecchia tecnica di nastro americano più nastro da elettricista quindi adesso sarà possibile vedete tirare via e che non sia non si aggancia poi sotto c'è il nastro nastro americano questo per compattare il più possibile fibre in un punto dove effettivamente qua serve veramente che siano super compatte mentre qua vi ricordate qua c'era un buco ho riempito ho messo sotto un pezzo di poliuretano e poi strafasciato il tutto con 5 6 7 strati adesso non lo so comunque tanto siamo nell'ordine dei 2 mm 2 mm 3 mezzo in più oltre al fatto del tubo che c'era internamente quindi credo che questo fletterà molto poco poi l'idea è quella di mettere comunque il sedile e poi mettere magari un puntone che vada al sedile sedile qua l'idea è quella di mettere il sedile il sedile si appoggerà di sotto e poi oltre a questo magari fare un puntone che vada qua acqua quindi triangolare il punto posteriore sicuramente un utente sono ricordo un amico mi ha detto ma secondo te poi qui potrebbe sfarfallare flettere si è chiaro che qui potrebbe tendere un pochettino a flettere però però vi dico che era una forcelli la forcella di solito è abbastanza tiene abbastanza bene devo dire quindi adesso vediamo se è dritto eccoci rimontata si 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 ma tutto dritto è anche molto più carina secondo me così ha molto più senso qui come vedete o siamo al limite siamo al limite senza entrare nel sedile però siamo al limite di tutto ma la 38 ci sta ci sta vedete che è dritto tutto dritto perfetto quindi mi sa che ci siamo ci siamo anche davanti usato il nastro di qual è il problema del nastro da elettricista oltre al nastro americano che non si tende tanto tende a poi fare le gobbettine invece il nastro americano tende a comprimere di meno le fibre però lasciare tutto più regolare quindi ai punti in cui c'è bisogno di poca estetica e molta resistenza vedete tirando il nastro americano viene un po fuori la resina perché voi gli fate fare il giro così man mano la regina la resina tende a uscire invece col nastro americano quindi questo è l'elettricista quindi quando lo toglierò vedete ci sarà qualche gobbettina vabbè invece quello da americano c'è meno compressione delle fibre bisogna anche stare attenti a non comprimere troppo perché poi guscia fuori poi tutta la resina fin troppo un po ovviamente ci deve stare all'interno delle fibre quindi il giusto mezzo è nastro americano teso è il giusto però va bene cioè alla fine dovevo qua dovevo veramente essere convinto di comprimere tutto il più possibile perché qua la forcella come vedete abbiamo guadagnato almeno almeno un millimetro per lato quindi era molto più sottile qua c'era adesso c'è molto meno spazio però c'è spazio sufficiente era comunque una forcella larga quindi ok via il nastro americano una veloce ripassata e il telaio è pronto e quindi saremo anche pronti a mettere la balena spiaggiata attaccarlo attaccarlo al tutto vedere se funziona quello che mi manca veramente è il carrello e il carrello volevo farlo come il bino o beano trovate su internet di sledge 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 uno dei più bei belli magari non esteticamente lo vedete anche su gs internazionale l'ha fatto vedere esteticamente non è un capolavoro però è veramente efficiente e vorrei copiare il carrello d'atterraggio che ha fatto lui come ha fatto lui ha fatto praticamente due uniball in pratica caso poi ve lo farò vedere due un uniball qua un uniball qua una t sostanzialmente che fa che esce fuori così anzi al contrario immaginate dal contrario allora in sostanza è fatto così immaginate che sia una t vincolata da degli uniball e quindi quando è a riposo è così quando va giù va così ecco così quindi a riposo inclinato ai pose così e quando va giù sarà così perché è efficace perché al carico di punto in questo direttamente stando in giù quindi senza solo con un fine corso è possibile tenere su bene il mezzo e invece il sistema tipo lo snoopy di russell bridge è un sistema a scomparsa telescopico e lì bisogna mettere un bel blocco vabbè poi vi farò vedere questo è l'unico grande scoglio ovviamente bisognerà poi praticare una apertura qua dentro e quindi fare una specie di sportellino che quando questo rientra poi si appoggia lì vabbè però facendolo in questo punto qua dove alla fine il moto passa da laminare a un po già torbolento diciamo che perderò non tantissimo addirittura il rassal bridge ha lasciato fuori il buco e anche il bino non è molto preciso però vabbè sono cose che puoi vedere fatto quello ci siamo fatto quello veramente adesso esteticamente questo qua rimarrà così la punta sotto per ora la lascio così un po fatta male poi la tirerò magari un po dritta vediamo si tratta adesso di adattarlo perfettamente ho tutta la possibilità di spostarlo in modo tale che sia perfettamente perché prima la punta andava giù leggermente tra modifica 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 andava giù leggermente adesso la teniamo tutto in piano e tanto ci sono tutta la possibilità di basta bucare nei punti giusti e ci siamo ok guardate tac adesso do su a mettere la crema t3 della giusti subito perché sennò parca miseria mi sono dimenticato la crema solare vabbè oggi è estate oggi veramente cosa cavolo è il 13 d'aprile madonna estate 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 veramente e mi sento bene pensavo di avere problemi invece non abbiamo un'intrusa vedendo quanto che non lo vedo da stamattina ma anche bisogno di colloquiali come ho mai detto ogni tanto va bene ma quando sei su questo mezzo qua ok saluti e pane e torna nel mondo terreno il tempo passa che piacere hai visto? tac sì va bene ok allora visto che corro il rischio di essere sezionato in tante parti con un coltello arrugginito anzi Elisa già che ci sei ti passo anche il coltello eccolo qua questo sarà il coltello della mia morte perché lo uso per tagliare il poliuretano sì eh vabbè dai bisogna sacrificare ciao amici adesso vado a morire ho fatto no tu non è se gli beni familiari ecco perché ecco perché dico che chi si allena e fa i mondiali di queste specialità del cavolo è un eroe perché alla fine deve rubare il tempo alla famiglia però poi la famiglia reclama il tempo eh sì 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 quindi oggi e gli è poco poco in questo momento va beh se vedete che non pubblico più niente sul canale sappiate che la ragione c'era quindi non preoccupatevi se questo è l'unico è l'ultimo video che pubblicherò no ma c'è il video della sua ce l'ha pubblichiamo il video della sua ce l'ha? ce l'avete fatta? non lo so non lo so se va bene o se dovremmo fare va bene allora lo spin off ve l'avevamo promesso e ho detto fatelo voi il video fate tutto voi sì ma me l'ha già fatto rifare 20 volte va bene e vediamo come sarà comunque aspettatevi qualcosa di un po' particolare e a presto amici a presto ciao e iscrivetemi se avete voglia se vi fanno piacere questi video un po' estemporanei non montati a me fanno piacere io ho pensato ma perché non far vedere quello che faccio ogni giorno magari a qualche anima pia insomma mi fa piacere quindi ah poi tra l'altro tra l'altro tra l'altro no dicevo avevamo detto di stringere i tempi ma mi filmi un secondo tra l'altro mi ha fatto anche piacere avevamo detto di stringere tanto i tempi mi ha fatto anche piacere perché io ogni tanto mi chiedo ma c'è qualcuno che mi segue c'è qualcuno che e capita spesso di trovare in giro qualcuno che alla fine mi conosce a Gattico ieri c'era un amico che che mi fa ma tu sei dopo un po' che ci siamo visti ci siamo salutati i due a piedi mi fa ma tu sei Marco Luga ti ho visto i video su GCN ti seguo sul canale YouTube mi fa piacerissimo perché è incredibile pur avendo solo 15.000 iscritti perché vedete che gli iscritti alla fine contano relativamente secondo me ci sono tantissimi anche che mi vedono in giro con le mie bici strane e sanno chi sono quindi se siete in giro a me fa piacere oltre a salutarmi salutatemi cioè anche per avere una soddisfazione personale ecco quello mi piace non mi cambia niente il discorso degli iscritti però in giro mi piace che la gente mi riconosca anche perché poi magari c'è la possibilità di scambiare qualche chiacchiera come è stato con l'amico a gattico va bene schiaccia stop sicuro alla prossima video se sono ancora vivo